In questa seconda lezione parleremo di un argomento molto richiesto dai miei studenti che è come studiare ed è una lezione presa proprio paro paro dalla prima edizione e ve ne voglio leggere una piccola parte che si trova proprio qui al capitolo 5 Il Garzia, che ha scritto il primo trattato di canto due secoli fa ha detto di studiare non più di quattro ore al giorno possibilmente divisa in sessioni da 30 minuti Condivido appieno questo suo pensiero e lo trovo molto funzionale e poco stressante con i tempi frenetici di oggi però è difficile trovare quattro sessioni di mezz'ora per studiare durante il giorno Ovviamente a quei tempi chi studiava musica poteva permettersi di dedicare l'intera giornata Noi no, neanche se studiamo musica al conservatorio perché abbiamo un botto di lezioni da seguire cioè dividersi queste quattro sessioni è piuttosto stressante mentalmente anche se sarebbe il top fisicamente Quindi, cosa consiglio io? Io consiglio di non esagerare di fare massimo tre ore al giorno di fila per non spezzettare appunto la giornata Tuttavia bisogna essere allenati per studiare tre ore di fila perché è come andare in palestra cioè dopo sei distrutto sei stanco, ti sei allenato fisicamente sei allenato Quindi cosa consiglio di base? Partite dai 30 minuti arrivate poi a un'ora un'ora e mezza, due ore andateci gradualmente poi se volete studiare quattro ore sei riuscita a dividere le in sessioni come ha detto il Garzia? Tanto meglio magari anche in quattro sessioni da un'ora perché no? Qui ho scritto di due livelli intermedio e principiante perché consiglio di dividere in percentuali l'ora di studio diciamo ad esempio un'ora di studio perché consiglio di dividere in percentuali ciò che fate per me ci sono tre aree da tenere d'occhio quando studiamo ovvero la tecnica vocale la tecnica strumentale e il repertorio Cos'è la tecnica vocale? La tecnica vocale sono tutti quegli esercizi che andiamo a fare che riguardano l'emissione del suono il tipo di suono e il tipo di emissione che andiamo a fare sto gesticolando troppo come gli italiani mentre la tecnica strumentale è quella tecnica che riguarda pienamente le note l'intonazione e il ritmo ok? quindi quando lavoriamo sulle agilità stiamo facendo tecnica strumentale quando lavoriamo sul twang stiamo facendo tecnica vocale il repertorio è chiaro sono i pezzi che scegliamo che ovviamente non devono essere scelti a casaccio cioè ok studiare la canzone che ti piace? sì ma probabilmente la canzone che ti piace ti viene già bene sono le canzoni a te estranee quelle da da tover studiare perché ti danno qualcosa che tu non hai ti danno qualcosa che tu non hai già dentro che tu non sai fare la canzone che ti piace del tuo artista preferito che ti ha fatto iniziare a cantare la sai già cantare probabilmente perché hai studiato anche inconsciamente quel tipo di suono quel tipo di note quel tipo di ritmo e di scala che lui usa invece andare su qualcosa che non sai che ti ha sconosciuto lì è quello che ti fa crescere ed è quello che di solito fa un insegnante ad esempio in conservatorio mi ricordo il primo anno io ero partito del metal del rock mi hanno fatto studiare i cantatori italiani io all'inizio ero tipo ma che palle poi mi hanno fatto studiare il jazz e io tipo ma che palle perché perché non erano il mio mondo e quindi un po' ero riluttante ma in realtà è quello che mi ha fatto più crescere perché mi ha insegnato cose nuove cose che non sapevo quindi tecnica vocale tecnica strumentale repertorio percentuale se stiamo a livello intermedio io consiglio di fare un 25% di tecnica vocale un 25% di tecnica strumentale e il 50% di repertorio quindi in un'ora mi fai un quarto d'ora un quarto d'ora e mezz'ora se invece sei un principiante cioè qualcuno che ha iniziato magari così da un anno io consiglio percentuali diverse perché dovresti fare il 40% di tecnica vocale il 40% di tecnica strumentale e il 20% di repertorio perché meno repertorio? perché al momento hai bisogno più di lavorare sulla tecnica sì, è vero si può lavorare sulla tecnica anche studiando il repertorio ma devi saperci fare devi capire cosa sta succedendo è come isolare quella cosa e trasformarla in un esercizio che si fa cioè se c'è una cosa che non mi viene io la prendo la isolo la trasformo in un vocalizzo e ci lavoro isolando perché noi dobbiamo sempre andare a spezzettare le cose soprattutto nel repertorio non possiamo provare e riprovare la canzone per intero perché altrimenti non ne usciamo cioè diventa una cosa fine a se stessa facciamo le cose cantiamo tre minuti stanchiamo inutilmente e resterà lo stesso problema in quel punto X dove sbagliavi mentre invece devi isolare il punto X metterlo a vocalizzo e studiare lì studiare su quello puntare sugli errori ecco perché bisogna avere però coscienza di quello che succede che la sviluppi soltanto studiando la tecnica vocale studiando la tecnica strumentale rendendoti conto di quello che succede ok e sapendolo puoi trasformare anche in un esercizio come scritto alla fine di questo piccolo capitolo e di questa piccola lezione la cosa più importante nello studio è la costanza organizzate il vostro tempo per riuscire a studiare perché altrimenti non ci sono non ci sono risultati cioè se voi mi studiate avete fatto la sessione di 30 minuti ogni tot nella vostra giornata se vi arrivate 4 ore ma l'avete fatto solo un giorno nella settimana non concludete niente di solito ci si vede una volta a settimana no in questa settimana avete il tempo di imparare di esercitarvi sulle cose che l'insegnante vi ha dato o sulle cose che da soli vi siete proposti di fare e dovete riuscire ad ottenere quegli obiettivi quindi bisogna organizzarsi bisogna organizzare le giornate per ottenere quegli obiettivi e bisogna essere costanti bisogna fare 3 ore al giorno non 3 ore un giorno sì o un giorno no perché non concludete niente bisogna essere più costanti possibili io quando stavo in conservatorio studiavo tipo 8 ore al giorno dalle 8 di mattina alle 4 ma proprio così ovviamente non solo canto ma poi studiavo anche chitarra, pianoforte, batteria quindi organizzavo le mie sessioni proprio intensivissime io facevo 8 ore come un pazzo di cui 3 ore erano di canto altre 3 ore erano di strumento e le altre 2 ore facevo la parte teorica armonia eccetera eccetera ma comunque pazzo il triennio soprattutto perché poi al biennio mi sono lasciato un po' più andare perché ho iniziato a insegnare ho scritto il libro avevo un'etichetta discografica insomma un botto di cose che mi hanno assorbito di più e quindi non riuscivo a tenere quelle 8 ore di studio ma non avevo neanche più bisogno di studiare 8 ore di studio ne studiavo 3 ok? quindi super costanza ci vediamo alla prossima lezione